bentornati a true fear forsaken souls allora eravamo rimasti qui facciamo un piccolo riassunto della puntata precedente noi siamo holly finalmente ho capito come si chiama sta ragazza e nostra sorella header ci ha contattato dopo dieci anni che non la sentivamo e ci ha chiesto di venire a questo indirizzo è che non so qua non c'è nulla a parte un po di puzzle da risolvere e per seguire appunto nostra sorella e scoprire un po cosa le è successo in questi ultimi dieci anni e anche qualcosa su nostra madre a quanto pare abbia ogni tanto questi sussurri ci ci seguono allora dobbiamo appunto vedere un po di esplorare questa questa casa quindi continuiamo proseguiamo avevamo un po di ma abbiamo una mappa ma è con la mappa voi pensate di aiutarmi allora hai accesso alla mappa per vedere la tua la tua posizione corrente e per viaggiare tra le location scoperte cioè ma veloce cioè viaggio rapido vediamo si è un viaggio rapido a quanto pare wow ok la la posizione corrente è contrassegnata da una stella e le location con delle azioni ancora da fare ancora possibili sono marcate con un punto esclamativo e quindi basta selezionare una location dove andare e noi ci andiamo fantastico allora qui se non ci sono punti esclamativi secondo me allora abbiamo fatto tutto e quindi quello che pensavo di dover fare qui con sta questa televisione evidentemente non si deve fare vabbè proseguiamo allora accendiamo la luce come ci hanno insegnato però non è servito a nulla va bene qui a guardate qui possiamo mettere il nostro fusibile ecco qua no mettilo no a prima dobbiamo togliere l'altro scusate è vero è vero cosa significa no non voglio no non voglio cliccare qua perché magari mi dai delle hint che non voglio avere fammi vedere adesso e l'ho guardato il fuse box cosa devo fare a premere a devo fare un giochino mi sa che qui devo fare un giochino per accenderli tutti o per accendere solo le parti che mi interessano è questa interessante non lo so vediamo se faccio no ok devo farli tutte allora quindi però non ho un qualcosa da seguire a a caso a si fa tutto ragazzi via oh te visto che bello che soddisfazione qua leggiamo cosa ci viene detto grandioso il basement spaventoso the creepy basement è chiuso da dei lucchetti deve esserci una chiave per aprire e qua parla di un lucchetto solo ma ce ne sono diversi quindi vuoi dirmi che è solo un lucchetto che va aperto non credo questa mi serve perché ecco è la seconda vi ricordate le assi che dobbiamo mettere per risolvere il problema delle scale qui non mi pare che ci sia niente a parte questo sarà un registratore sentiamo cos'è una segreteria telefonica bene questo era un messaggio meraviglioso ok lei si ricorda che questo dark falls asylum è quel posto di cui aveva sognato dove è accaduto qualcosa di orribile e cosa ha scritto quello che la cassetta ci diceva e cioè è così triste che tu non si è venuto a non si è venuta a visitarci prima adesso dovremmo venire noi a visitarti a vedere te e lei si chiede se non sia uno scherzo questo messaggio spaventoso si segna tutto sul sulle sue sul suo diario va bene qua allora è tutto barricato quindi vedremo come ho ma è barricato eh è barricato chiunque tu sia mi dispiace ma ci abbiamo provato anche noi ma non funziona no adesso continuo a far così tutto il tempo vediamo eh sì va bene qua cosa c'è di bello mi danno i brividi queste macchie certo sono macchie di sangue per forza va bene eh qui ok devo mettere a posto qualcosa è una lampada sì da esterno effettivamente e ci vuole un sacco di di energia per per attivarle e anche una lampadina immagino va bene lì continua chiunque sia continua a cercare di entrare io non aprirei a questo punto lascerei le cose così come stanno vediamo se mi da ancora ancora punti sì punti esclamativi eh ma in posti nuovi mi dai punti esclamativi io questo qua non l'ho ancora visto che cosa lo fai a fare c'è anche questo boh come si arriva lì non lo so vedremo allora vediamo il bollitore ah qua ci sono le altre assi boh no manca ancora una ok pensavo avessimo completato oh questi qua scusate ma devo andare subito adesso a provare perché era proprio quello che pensavo io ah vedete ma allora non è vero vedete sono questi pezzi che adoro che spavento cos'era dietro di me è stato intenso sì direi anche per me no però dicevo non è vero che mette il punto esclamativo dove bisogna ancora fare delle azioni non c'era nessun punto esclamativo qua va bene allora leggiamo bello questa è la bambina di the ring è samara assolutamente o sadako che cosa mi sta succedendo continuo a vedere questa creepy girl questa ragazza spaventosa angosciante è vero è un incubo non credo di essere mai stata così spaventata ma non posso mollare io me ne sarei già andata da tempo 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 tantissimo tempo allora qua i punti esclamativi ci sono effettivamente allora quello l'abbiamo fatto qui non c'è nulla qui c'è qualcosa sì direi che questo è un emblema che dovremmo mettere da qualche parte per risolvere qualche enigma allora può essere che non sia niente ma tutti i tutti i coltelli mancano ora sarebbe anche normale visto che una casa abbandonata però se mancano solo i coltelli uno si deve anche un po preoccupare c'è ancora acqua corrente potrei riempire o bagnare qualcosa qui quindi se ci serve l'acqua poi vedremo l'ho letto bella storia ma troppo corta mystery valley ok qui ci sono solo cucchiai qui qui solo forchette e non ci sono allora i i coltelli d'accordo qua no e volevo andare vabbè questo è chiuso dalla dalla ruggine quindi può essere che magari togliendo la ruggine si apra è così cosa sta a fare qua sto coso così da solo allora qua c'è scritto holly heather e dahlia ah lei non sa chi sia dahlia io credevo fosse la madre figurati un po visto che la lettera di heather diceva devi scoprire anche cose su tua su tua madre che non sapevi su nostra madre che non sapevi pensavo che dahlia fosse la madre invece no ah quindi c'è questa dahlia che non è probabilmente la creepy girl che continui a vedere va bene quindi questo è il era il loro frigorifero a quanto pare allora se c'è anche il suo nome allora questa maniglia è avvolta dallo scotch devo rimuoverlo abbiamo qualcosa per rimuoverlo io direi di provare con questo è te visti bello allora ci sono le uova no cosa c'è qua dentro una lampadina che serve moltissimo questo spider webs si sono tele di ragno e quindi qual è il tuo problema che non vuoi metterci le mani vuoi toglierle con qualcosa non ha niente per toglierle vediamo i need to clean the space si devo pulire queste tele di ragno e spero che dentro non ci sia un cartone di latte di dieci anni vecchio di dieci anni e che te frega lo lasci lì non è che sia una tragedia vabbè dobbiamo pulire queste tele di ragno allora quello che vorrei capire è mi dici che c'è ancora roba da fare qui sì ok allora io andrei a mettere la lampadina qua perché secondo me questa è la cosa più logica adesso da fare però fino a un certo punto logica perché non c'è corrente quindi è inutile farlo adesso len va bene qua non c'era nient'altro mi pare affinché non possiamo pulire se ste tele lasciamo stare qui abbiamo una matita che ci serve e qui che dobbiamo fare che strano bauletto sembra che una delle delle mani delle braccia manchi e quindi una volta che troviamo quella probabilmente c'è da metterla in una posizione specifica ok qua è così questo ah ok dice non voglio spegnere le luci in un posto del genere ma io non ti ho chiesto di spegnere c'era la lente di ingrandimento ti ho chiesto di fare delle considerazioni e potevi evitare figurati se io voglio spegnere le luci ci mancherà beh altro allora qua non mi pare che ci sia nient'altro no perché qua mi fa tornare qui non c'è nulla beh a meno che non mi stia perdendo qualcosa lo scopriremo solo vivendo e qua c'è l'altra famosa stanza che ci ha già fatto vedere prima allora qui questa ci serve e così ne abbiamo quattro adesso ci servono dei chiodi il martello ce l'abbiamo mancano solo i chiodi immagino eccoli qua ti hai visto adesso possiamo andare al piano di sopra perfetto qua no ah mancano le maniglie ma tu pensi che le troveremo vabbè vedremo niente di interessante niente di interessante questo come lo apriamo ah ok ci serve anche qua un antiruggine perché è tutto arrugginito e non si apre e questo mi manchi holly questa è una una foto di mia sorella e mia se stava pensando a me perché non mi ha mai non si è mai preoccupata di contattarmi eh vai a saperlo ok qui nient'altro quindi abbiamo solo la foto no direi che qua a parte aprire questo non dobbiamo fare altro va bene via e andiamo di qua qua cosa c'è mi sa ah qua c'è da scongelare perché bisogna prendere questo questo secchio però è bloccato nel nel ghiaccio e quindi ci sarà sicuramente da scongelare tutto allora spegnere il freezer sarebbe inutile ci vorrebbero giorni per far sciogliere il ghiaccio quindi mi sa che dovremmo fare in altro modo qua hai scritto qualcosa ah ok dice che questo posto ha alcuni alcuni lucchetti sono alcune serrature sono arrugginite e meno male che però le 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 viti non sono arrugginite quindi mi stai dicendo che dovrei 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 semplicemente trovare un cacciavite per togliere le viti ma non ce l'ho non ce l'ho un cacciavite giusto no e quindi ce l'avevo nel gioco di là se se avessi potuto portarmelo dietro allora niente qua adesso non possiamo fare nulla a quanto pare perché come lo sciolgo il ghiaccio qui non posso al momento quindi vediamo ah ok questi me li aveva già fatti vedere prima è arrugginito e rotto e non posso buttare giù la porta a calci ma strano è molto strano questo mi sembra una porta che si può buttare giù a calci e come sei tu che fai tante storie ok qua c'è sangue ovviamente e poi sono sicurissima c'è qualcuno in casa con me non sono pazza vedo cose che si muovono quando ritorno in un che si sono mosse quando torno in una stanza sento qualcuno camminare e ieri l'ho visto anche stare nel fermo nel corridoio ok anche questa è una pagina del diario di mia sorella ha visto la stessa ragazza strana che ho visto io so di aver visto qualcuno ok qui non credo che ci sia altro da fare sembra sangue sembra che ci sia qualcosa dentro ma non riesco a capire cosa quindi mi sa che dovremmo pulire anche qui abbiamo qualcosa per pulire direi di no quindi vedremo qua invece dobbiamo trovare un codice dove ho visto questo disegno prima e se non lo sai tu mia cara forse su al piano di sopra e al piano di sopra dobbiamo andarci perché ora dovremmo riuscire abbiamo i chiodi abbiamo abbiamo le assi e quindi direi di provare a mettere a posto qua ok poi questi ok e questo oh va che lavoro proprio che è andata lì a fare il carpentiere bravissima andiamo una sicurezza a far con le scale che guarda io mi sarei fidata tantissimo allora abbiamo il secondo emblema sempre del serpente qua e qua continua a raccontarci che sua sorella era un po' ossessionata con queste cose e ci sono anche libri sul paranormale a quanto pare o sui demoni non lo so e qua oh c'è qualcuno alla finestra qui ce l'ha anche segnato perché così almeno lo vediamo meglio mi ricordo di questa fotografia l'ha fatta il nonno aspetta un attimo non c'era nessuno nella casa quindi chi è che sta al secondo piano alla finestra del secondo piano la mamma ha sempre chiuso il secondo piano e non eravamo non c'era permesso andare lì sopra e allora ha fatti un paio di domande perché era sempre chiuso il secondo piano e adesso vedi che c'era qualcuno alla finestra ragazza io non lo so perché mia sorella aveva così tanti libri sulla demonologia e sul sovrannaturale e c'era pure qualcuno alla finestra che non doveva esserci fai un po' te Olli sei un po' tarda eh adesso te lo dico con tutto l'affetto qua c'è un altro codice da inserire che al momento esatto una combinazione che al momento non abbiamo vediamo cos'altro può esserci no qua mi dà sempre la stessa cosa qui posso guardare oh forse qua c'è un emblema da inserire questo no questo no pensavo eh corvo non ti arrabbiare è brutto essere in errore vero eh sì allora tutte le finestre sono chiuse non ha alcun senso aver messo queste assi e secondo te magari il senso c'è eh tu non te ne rendi conto niente qua non so ancora cosa vada oh ti hai visto che cosa devo fare? no ci vuole una chiave immagino giusto? dov'è la chiave? a me lo chiedi io non lo so ma questo qua è un emblema occhio aspetta un attimo perché questo non l'ho provato eh eh porca miseria eh questa serve ma dai ok quindi adesso abbiamo una flashlight che quando la usiamo ah quando fa buio vabbè per adesso non serve va bene questa l'abbiamo vista questa non la possiamo ancora aprire vediamo qua eh ok qua possiamo uscire questo cos'è? oh un altro collezionabile allora la giovane Holly siamo noi quindi eh avevo undici anni quando la mamma è morta Heather mi ha detto eh che ha trovato il corpo eh che io ho trovato il corpo ma non me lo ricordo non ricordo niente eh dopo quello la vita si è fermata per un po' eh non è stata più la stessa ho provato ad aggiustare tutto riparando la nostra casa riparando le nostre vite e volevo che tutto fosse andasse meglio ehm ma la porta della sua stanza è rimasta è rimasta chiusa e i nostri nonni eh hanno litigato eh più che mai presto il nonno eh si è spostato nel shed credo che sia una sorta di casetta una baita ehm alla accanto e poi è morto eh poi la la nonna si è ammalata eh e ci siamo dovuti spostare eh alla scuola vicino ehm tutti si sono tutti loro due penso si sono incolpati a vicenda della mamma della morte della mamma eh gottetto e quello a cosa è servito quando eh la nonna è morta mi sono mi sono ritrovata a costruire la mia la mia stessa a ricostruire la mia vita ecco a costruire la mia vita ma a quanto pare anche hai perso anche tua sorella perché se ho ben capito poi non mi siete più eh sentite eh c'è qualcosa incastrato qua e lo so perché mi sembra il cacciavite e lo vorrei però non è che la no non so potesse servire no c'è da prendere c'è da trovare qualcosa per tagliare per tagliare la pianta che poi io la strapperei con le mani eh però non vuole Olli qua cosa dobbiamo fare eh sì continua a dire la casa sembra abbandonata ma le luci sono accese effettivamente vediamo fuori cosa c'è allora leggiamo dice c'è una grata di metallo sulla finestra se trovo una wrench sarebbe la solita chiave inglese posso rimuoverla ma perché la wrench per come motivo vabbè questa è una pinza e già mi mi ispira ma la wrench ah perché puoi togliere questi sono bulloni che si tolgono ok allora sappiamo dov'è perché è dentro il è dentro l'orologio la wrench quindi ci serve uh la luna è enorme stanotte sì ah ecco qua dove dobbiamo mettere i nostri serpentelli perfetto è giusto le ho messi giusti ma no forse no aspetta sto corvo ah li posso girare così no direi di no aspetta fammi vedere ok questo è a posto questo vediamo no vediamo così no assolutamente no vediamo questo no direi di no mamma sti rumori che fastidio allora questo è l'ultimo che rimane e allora ma davvero no ok niente come non detto allora proviamo questo di qua intanto così facciamo qualcosa no non può essere questo sì è fatto male però dovevate farle meglio qua non va bene non va bene così no non ti piace allora no direi che non è questo direi che non è questo vediamo qua sì ma a me non sembra che sia fatto benissimo però se lo dite voi va bene e qua dovrebbe essere allora così eccolo fatto apri apri questo serve per per accendere la la luce di sotto quella quel faro con la lampadina quello c'è qualcosa che brilla negli alberi ma qui e come c'è non posso arrivarci per adesso non credo vabbè vedremo magari dopo sì ho capito devi uscire devi uscire da qui ok qui ancora non possiamo fare niente qua ci sarebbe una porta da aprire che però non si apre ah da dentro c'è qualcosa che la blocca sta porta eh quindi mi sa che sarà una shortcut dopo allora usiamo la nostra eh simpatica mappa così possiamo arrivare subito qui e mettere la batteria qua e adesso beh ah qui oh ecco perfetto aspettate che come al solito come Lara ben saio devo segnarmi tutto come faccio in in the room allora e buonanotte come come lo segno questo aspetta così poi questo e così ma adesso se lo sarà segnata sul quadernino e io mi sto facendo tutta sta menata per niente però almeno ce l'ho già qua senza star lì ad aprire quaderni e altro sì ho capito state zitti spiriti mamma mia che fastidio allora chiudiamo andiamo a vedere se l'è segnata qualcosa sì se l'è segnata ok ah è una luce nera ma a me sembrava più una luce viola però sì è tipo il luminol non lo so no tipo la l'ultravioletto del di di fasmofobia comunque rivelatrice e infatti quei simboli significano qualcosa se ricordo bene i simboli erano sulla oddio dov'è che li ho visti erano qua no da cavolo erano i simboli oh mamma non mi ricordo più erano ma perché mi dà ah no qua mi dà ancora roba da fare porca miseria non mi ricordo più forse qui su questo no no non eravamo non erano qui erano erano però da queste parti forse oh e basta vai indietro un attimo qui ah ma qua non ho guardato ma pensa te questo non l'ho visto c'è un medaglione che manca forse lo troverò e la e la porta forse quando lo troverò la porta si aprirà eh va bene questi erano qua no non era neanche questo porca miseria era la cassaforte non mi ricordo non mi ricordo dove erano sti simboli maledetti non mi ricordo più qua non l'abbiamo neanche ancora visto sto posto ehm qui cosa c'era eh qua no qua allora oh finalmente ah me li mette anche lì vicino io sono mi sono anche presa la briga di disegnarli ah li devo schiacciare in fila aspetta allora questo 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 e questo ok uh c'è un giochino da fare come sono felice adoro i giochini questo che cos'è eh una limetta ok poi eh qua cosa c'è da fare mancano i campanelli ok ehm qui devo aprirla non si sa no per adesso no questa ah devo bruciare qualcosa qui e la bottiglia ha bisogno di un cavatappi qua la maniglia manca e con qualcosa posso forse posso aprirla magari con questa sì perfetto ok e prendo un pesetto un pesetto ok e qui dovrei cercare la chiave questa qui c'è ah il pesetto lo mettiamo qua eh tè e questo ce lo prendiamo ah i fiammiferi questa la possiamo bruciare qua sopra ok con i fiammiferi bene vediamo cosa c'è dentro perché non la potevo aprire la deve solo bruciare se no non vale vediamo una chiave giustamente ah però prima devo spegnere il fuoco quindi dobbiamo aprire la bottiglia eh eccolo qua e spegnere il fuoco così possiamo prendere la chiave giusto? tutto sto casino per fare questa cosa la chiave apre qui immagino giusto? ok e abbiamo qua dentro la cosa importantissima ah questa altro basta solo quello va bene allora mettiamo i campanelli alla sveglietta che fa scappare un pipistrello che ci ci dà le nostre forbici per tagliare immagino l'erba che tiene imprigionato il cacciavite immagino che qui abbiamo fatto tutto perché queste sono sono le cose che ci servivano vediamo se ho ragione non lo so non lo so perché non mi dà non mi dà la chiusura a me sembra di sì a me sembra che sia tutto fatto non credo che ci sia altro da fare qui quindi io do per scontato che abbiamo finito andiamo qua strano che ce le abbia fatto ah no abbiamo trovato le forbici ma erano sempre del gioco le forbici cosa dovevamo fare con le forbici qui ma che cavolo non mi ricordo più c'era qualcosa che dovevamo fare con le forbici la corda devo tagliare vediamo ah sì vabbè non ci sarei mai arrivata oh questa può essere utile quindi questo era la cosa che dovevamo trovare era la corda che non mi ricordo sinceramente dov'è che dovevamo mettere una corda avevamo una corda da usare per buttarci giù da qualche parte ma seriamente ok va bene qua non mi sembra che ci sia altro per ora questa la dobbiamo ancora aprire d'accordo ma la corda non mi ricordo non mi ricordo della corda no no magari ci serve per prendere la roba sull'albero boh io non ricordo nessuna corda da usare va bene non importa ci ci penseremo e visto che l'episodio diciamo che è andato avanti anche tanto direi di chiudere qui abbiamo fatto un bel po' di cose andiamo avanti a fare un sacco di cose diciamo che non ci sono tempi morti e quella è una buona una buona cosa perché in questi giochi a volte capita di rimanere incastrati invece per adesso è tutta esplorazione e direi che stiamo andando avanti abbastanza bene perciò io chiuderei qui e vi rimando al prossimo episodio ciao 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 ciao